Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 con gli attratti per traffico tra Calenzana e P1 Variante in direzione di Bologna. Regolare il traffico altrove. In FIPILI restano rallentamenti per lavori tra Empoli e Montelupo verso Firenze e in carreggiato opposta tra Ginestra e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Per i stessi lavori l'uscita di Montelupo è chiusa al traffico provenendo da Firenze fino al 16 settembre. Uno sguardo al traffico urbano di Firenze e un mezzo pesante è rimasto incastrato nel sottopasso di via Nello Carrara. In vigore al momento un senso unico alternato, ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. E prima di salutarci per il traffico ferroviario per intervento sanitario 118 un viaggiatore a bordo del regionale 11.715 Firenze-Grosseto. Il regionale sta viaggiando al momento con 32 minuti di ritardo. L'arrivo a destinazione è previsto alle 14.57 salvo recupero. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!